carissimi amici e amiche bentornati per una nuova sicuramente avvincente puntata del circo di carichesi dedicato a maria di magdala dico avvincente non certamente per chi parla ma per ciò che viene letto perché è una storia meravigliosa quella di questa straordinaria donna la donna veramente bellissima e scandalizzate insomma di con sacerdote ma mano mano che andremo a conoscere è una personalità veramente bellissima proprio dal punto di vista oggettivo chiunque può vedere il carattere la personalità ecco di questa di questa creatura estrema come come andremo vedendo quindi sapete poi il fascino dipende un pochino dai da temperamenti sapete che c'è sempre programma il proverbo è del simile a sconsimilibus no personalmente in un temperamento un po come quello di mario di magda quindi che sta tutta da una parte tutta dall'altra un pochino rivedendo anche un pochino qualcosa della mia esistenza secondo me sono comunque personalità molto molto affascinanti ecco nella storia diciamo della della geografia cristiana sono diversi i personaggi di questo genere quelli che hanno imbroccato la via dritta perché se avessero imbroccato la via storta sarebbe successo nel mondo insomma nei testi di ascetica tipo rovio marino tipo tanque erei c'è scritto questi personaggi o diventano demoni o diventano o diventano santi non hanno le mezze misure no ecco quindi è un personaggio di questo genere abbiamo già un pochino vista no adesso andremo gradualmente a vedere come è stata così sfrontata diciamo così provocatoria no sfrontata provocatoria insolente sprezzante beffarda nel male e vedremo adesso poi la bellezza del cambiamento la radicalità anche del cambiamento il coraggio che che ha perché dio un pochino se l'aspetta da noi certe cose no perché quando c'è un grande peccatore è certamente il signore ci siamo lasciati la volta scorsa con la parabola della pecorella smarrita per lui è una gioia immensa diciamo così riaccogliere un grande peccatore però certamente si aspetta nostro signore questo lo vedremo è che il grande peccatore si rimbocchi le maniche e faccia un po' di penitenza soprattutto rovesci un po' la vita no quindi dice bene prima ero così e adesso sono colà e te lo faccio vedere che sono colà e il nostro signore questo non solo che lo gradisce assai e diffidate da chi dovesse dire che non è così ma ma se lo pure un po' aspetta quindi lo lo gradisce e lo desidera ecco fatti questi eccessivi preamboli andiamo subito a riprendere il nuovo paragrafo paragrafo di media media grandezza che è un paragrafo un po' cerniera da quello fondamentale che sarà l'episodio nella casa di simone il fariseo anche qui tutti quanti ahimè gli interpreti contemporanei hanno abbandonato la patristica e la tradizione ma che non ce la siamo già detto all'inizio no maria di magdala è la stessa persona considerando uno la peccatrice della casa di simone il fariseo secondo la sorella di ma di di lazaro e terzo l'autrice dell'unzione di betania è la stessa adesso non vi dico quello che combinano gli eseggeri dai scritti di di maria valtorta la testimonianza unanime della tradizione risulta ovviamente come sempre perfettamente confermata comunque vabbè non ci non ci avveleniamo il fegato con queste con queste cose qui lasciamole a chi preferisce occuparsi di queste cose piuttosto che gustarsi le bellezze che il signore ci dona allora la sorella la certezza della sua conversione gesù sta per salire sulla barca ed è una chiara aurora estiva che sfoglia rose sulla seta crespa del lago quando sopraggiunge marta con la sua ancella o maestro ascoltami per amore di dio gesù scende di nuovo sulla riva e dice agli apostoli andate ad attendermi vicino al torrente preparate intanto tutto per la missione verso magedan spero di averlo letto beh in ebraico sicuramente magedan perché la g in ebraico la g normale non c'è quindi però non c'è l'h anche la de capoli aspetta la parola andate in ebraico non c'è il nostro g è come in tedesco c'è soltanto il g e mentre la barca si stacca e prende il largo gesù cammina a fianco di marca di marta seguita rispettosamente seguita rispettosamente da marcella guardiamo che marcella era l'ancella di marta facezia marcella era l'ancella fabbola rima di marta le ancelle così capiamo anche la risposta che era anche perché la divina maria da parlac angelo l'unica la tradizione la traduzione migliore quella latina che diciamo l'angelo che è c'è ancilladom la peggiore è quella dell'angelus italianizzato ecco la serva del signore o anche la traduzione credo anche la nuova cei tutto a meno che serva perché il termine greco è dule che dule significa schiava il problema è che l'ancella non era semplicemente una schiava ma era una schiava ad personam cioè era un'ancella incaricata solo del servizio h24 della persona cioè non è che andava in giro per le case no 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 quella era la bodyguard in veste chiaramente di schiavo cioè capito la serva proprio assoluta che potrebbe essere chiamata in qualche ora del giorno della notte a disposizione quindi capite la madonna dice io sto e lo sappiamo io sono l'ancella del signore sto h24 la disposizione sua capite che bello no scusate ogni tanto mi vengono questi voli pindarici tra parentesi allora si dilungano così dal paese camminando sulla riva che subito dopo una striscia di rena già sparsa di erbe selvagge e rade si copre di vegetazione e perdere l'ina orizzontale per assumere quella verticale dando l'assalto alle coste che si quando raggiungono un luogo solitario ci sono sorridendo che mi vuoi dire o maestro questa notte da poco era terminata la seconda vigilia è tornata a casa maria non vorrei fare il don ferrante o sembrare scortese tanto sicuramente tutti lo sapete però per chi magari non lo sapesse la seconda vigilia da poco terminata la seconda vigilia vuol dire poco dopo mezzanotte le vigilie sapete che i romani contavano il tempo così si andava dall'ora prima all'ora undicesima l'ora prima erano le sei e l'ora undicesima erano le cinque del pomeriggio dopodiché alle sei del pomeriggio cominciavano le vigilie che erano quattro le vigilie perché si chiamavano così che erano i giorni di guardia delle sentine alle porte della città perché veramente non c'era l'ora l'ora legale quindi anche d'estate non proprio alle sei però verso le otto c'è a buio no e quindi durante la notte c'erano le guardie alle porte della città nel città c'erano le porte un tempo non erano a cielo aperto come oggi e quindi c'erano quattro vigili e la prima vigilia è dalle 18 alle 21 la seconda dalle 21 alle 24 la terza dalle 24 alle 3 e la quarta dalle 3 alle 6 così per esempio anche per chi sapete come era fatto stupendo il breviario antico cominciava l'ora prima che si fa le sei della mattina l'ora terza si fa le 9 ora sesta si fa a mezzogiorno loro nona si fa le tre i vespri si fanno alle 18 la compieta si fa alle 21 il mattutino si fa a mezzanotte e le lodi alle tre di notte poi si ricomincia bello eh che roba va bene un po di cultura generale o se qualcuno ci avesse voglia se poi ci sono anche le app per il breviario del 62 sia per android che per apple ok quindi se qualcuno ci avesse voglia dice non conosco il latino non fa niente un tempo nei monasteri le suore il latino non lo conoscevano tanto è vero che si diventava suora corista dopo che aveva imparato a pronunciarlo ma quello che me lo pronunciavano e cantavano in gregoriano senza capire niente e non c'era la traduzione a fronte come le app di adesso se uno vuole capire ti delizzi con la traduzione a fronte ma non è importante che capisci tu è importante che capisce il nostro signore la lode che tu gli dai capito che tu lo fai col cuore tu ci metti il cuore d'accordo vabbè stasera sto in vena di divagazioni devo stare come si dice con gergo comune sul pezzo perché sennò qui si fa notte tenente allora era da poco terminata la seconda vigilia torna a casa maria a ma mi dimenticavo di dirti che mi aveva detto mentre mangiavamo a sesta o vedete che perlomeno la digressione così adesso sappiamo che cos'è sesta no quindi sesta e mezzogiorno ti dispiacerebbe prestarmi un tuo abito e un mantello maria di magdala che si mette gli abiti da bigotta da bizzocca della sorella quegli abiti lunghi che la trattata mezza prefica capito maria di magdala saranno un poco corti un poco corti nel senso che marta era bassina a quanto pare e invece maria di magdala oltre a tutto il resto delle cose era anche abbastanza alta e slanciata insomma quindi se faceva proprio manca niente insomma all'avvenenza esteriore no se mi lascerò sciolta la veste e terrò basso il mantello l'ho detto ma prendi quello che vuoi sorella mia immaginata questa volta tutta casata no e il cuore mi batteva forte perché prima nel giardino aveva detto parlando con marcella a vespero bisogna essere a cavarna o perché il maestro parla alla folla questa sera e avevo visto maria sussultare cambiare colore non sapeva più stare ferma ma andava veniva sola come che è in pena l'orgasmo nel punto di decidere e non sa ancora quale cosa accettare e quale respingere dopo il passo è andato e dopo il passo è andata nella mia stanza che quando se tutte queste cose vado 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 invisibili e ha preso la veste più oscura che avessi la più modesta se l'è provata audite audite e ha pregato la nutrice di abbassare tutto l'orlo perché era troppo corta audite audite ci si era provata lei mi aveva confessato piangendo vedete perché quando una diventa una grande peccatrice poi diventa pure imbranata non sono più capace di cucire ho dimenticato tutto ciò che è utile e buono ecco questa è veramente una frase che che fa tanta tanta tenerezza no e mi ha gettato le braccia al collo dicendo prega per me è uscita sola verso il tramonto quanto ho pregato perché non incontrasse nessuno che la trattenesse dal venire qui perché la tua parola fosse compresa da lei perché la riuscisse a strozzare definitivamente il mostro che la fa schiava guarda ho messo alla mia cintura la tua cintura bene stretta sotto le altre e quando sentivo l'oppressione del cuoio duro la mia vita non usa cinture così rigide dicevo egli è più forte di tutto è bella cinta che c'è al nostro signore bella ruspante bella cinta di cuoio molto maschile poi col carro si fa presto poi siamo venute io e marcella non so se c'hai visto nella folla ma che dolore che spina nel cuore non vedendo maria pensavo si è pentita è tornata a casa oppure oppure è fuggita non potendo più resistere alla dominazione mia dalla richiesta ti ascoltai piangevo sotto il mio velo quelle parole sembravano proprio per lei non le sentiva così pensavo io che non la vedevo sono tornata a casa sconfortata è vero ti ho disubbidito perché mi avevi detto se lei viene attento a te non la vedevo la disubbidienza non l'ha vista e si è messa in pena perché questa non ci sta e invece quella ci sta ma sarà nascosta disubbidienza c'è un amico che dice segna segnare disubbidienza così pensavo io che non la vedevo sono tornata a casa sconfortata è vero ti ho disubbidito perché mi avevi detto se lei viene attendi la casa ma vedete come sono anche anche che migliori marta era proprio una santa donna no ma te l'ha detto gesù in persona mi dicessi a me qualche obbedienza nostro signore che un sacco di volte un saccio che fa che dice ma un sms non arriva scusate ogni tanto scherzo ma te lo dice lui te lo dice è che caspita no e fa uno sforzino vabbè senso offesa per marta per carità che quella è un'anima beata dovessi andarci a fare come dire a diventare antipatici a qualcuno dei personaggi celesti lungi da noi insomma no ma considera il mio cuore maestro ti ho disubbidienza ma considera il mio cuore maestro era mia sorella che veniva a te potevo non esserci a vedere lei presso di te e poi tu mi avevi detto sarà spezzata io volevo essere vicino subito per sostenerla ero in gigonocchiata in lacrime e preghiera nella mia stanza e da molto era terminata la seconda vigilia ah quindi siamo verso l'una di notte probabilmente quando lei è entrata così piano che non l'ho sentita altro che quando mi si è arrovesciato addosso abbracciandomi stretta e dicendo suspense suspense via è vero tutto quanto dici sorella benedetta anzi è molto più di quanto tu dici la sua misericordia è molto più grande oh Marta mia non hai più bisogno di tenermi non mi vedrai più cinica e disperata non mi sentirai più dire per non pensare ora voglio pensare so a che pensare alla bontà fatta carne tu pregavi sorella mia certo pregavi per me ma tu hai la tua vittoria già in pugno ecco adesso io ho il cuore tenero quindi c'è qualche passaggio un po' già l'ho intravisto con la gola dell'occhio allora respirone la tua Maria che non vuole più peccare che rinasce ora eccola guardala bene in faccia perché è una Maria nuova dal volto lavato dal pianto della speranza e del pentimento mi puoi baciare pura sorella non c'è più traccia di vergognosi amori sul mio volto troppo bello e gli ha detto che ama l'anima mia perché ad essa parlava e di essa la pecorella smarrita ero io ha detto ascolta se dico bene tu lo conosci il modo di parlare del salvatore e mi ha ripetuto ma perfettamente la tua parabola è tanto intelligente Maria molto più di me e sa ricordare così io ti ho sentito due volte e se sul tuo labbro quelle parole erano sante e adorabile e sul suo per me erano sante adorabili e amabili perché era un labbro di sorella della mia sorella ritrovata ritornata all'ovile familiare che me le diceva stavamo abbracciate insieme sedute sulla storia del pavimento come quando eravamo bambine e stavamo così nella camera della mamma oppresso al telaio dove la tesseva o ricamava le sue splendide stoffe stavamo così non più divise dal peccato e mi pareva che anche la mamma fosse presente col suo spirito piangevamo senza dolore ma anzi con tanta pace ci baciavamo felici e poi Maria stanca del cammino fatto a piedi dell'emozione di tante cose mi si è addormentata a fare braccia e con l'aiuto della nutrice l'ho collocata sul mio letto e l'ho lasciata correndo qui e Marta bacia le mani di Gesù beata ti dico io pure ciò che ha detto Maria tu hai la tua vittoria in pugno va e sei felice vai in pace segui una condotta tutta dolcezza e prudenza con la rinata addio Marta fallo sapere a Lazzaro che laggiù si angustia sì maestro ma Maria quando verrà con noi discepoli sentite la risposta di Gesù però guardate Gesù sorride e dice il creatore fece il creato in sei giorni e il settimo si riposò questo perché le donne sono sempre impazienti non hanno pazienza le operazioni divine hanno dei tempi fisiologici quindi e bisogna aspettare e non bisogna correre non bisogna averci prescia dicono a Roma comprendo bisogna avere pazienza e anche sì pazienza sì risponde Gesù non sospirare è una virtù anche questa la pace a voi donne ci rivedremo presto e Gesù la lascia andando verso il luogo dove la barca attende presso la rima questo l'abbiamo commentato un pochino leggendolo ma è un passaggio fondamentale e commovente l'incontro tra queste tra queste due donne forse è bene prima di passare al clou che poi è il brano uno dei brani che conosciamo meglio probabilmente perché non è altro che una ulteriore puntualizzazione di quel brano molto lungo peraltro di L'angelo di Luca con l'anonima peccatrice lì ma non anonima per noi nella casa di Simone Fariseo no? ecco però sentire è vero tutto quanto dici la sua misericordia è molto più grande so a che pensare alla bontà fatta carne no? la tua Maria che non vuole più peccare che ne nasce vedete la parola magica che non vuole più peccare amici miei cari non dimentichiamo mai che noi abbiamo un patrimonio la nostra forza la bomba atomica ciò contro cui il diavolo non può fare niente io guardate adesso facciamo un'invasione di campo ok? facciamo un'invasione di campo ho avuto modo anche in qualche intervento pubblico volutamente polemico perdonatemi di biasimare certe stravaganze stranezze che sono state dette e fatte mi dispiace e tanto lo ridico in nome della divina volontà che è una cosa talmente sacra e talmente santa e talmente bella che soltanto a nominarla bisognerebbe chinare la testa ma una delle cose più importanti che tanto Maria Voltorta non si offende che erano molto amiche adesso lo sono in cielo io sono guardate qui mi ci gioco la faccia quando la chiesa rinascerà perché la chiesa rinascerà sono tutti preoccupati ci attende un'era che quando arriverà speriamo qualcuno la veda faremo tante di quelle capriole che i momenti bui sembreranno un incubo quando uno fa un incubo si svegliava e dice è un incubo io ci metto una mano sul fuoco questo si può dire tanto che se ci saranno due colonne di spiritualità nella chiesa rinata sono Maria Voltorta e Luisa Piccarreta io questa è una cosa che sento nel cuore può essere che mi sbaglio molto probabilmente però la dico ok quindi non sono gerose ma una delle cose più importanti è che conoscendo la divina volontà tu capisci la grandezza della tua volontà cioè in 36 volumi di libro di cielo un giorno mi dovrò andare a divertire devo andare a fare un conto di quante botte ricorrono le citazioni di demonio diavolo o satana io credo che a 20-30 non ci arriviamo su forse 30.000 pagine non lo so quante sono perché sì qualche volta lo dici ma perché il problema è la nostra volontà lì il diavolo si sfracella capite Maria di Magdala è perduta certo c'è voluto un processo c'è voluto un'operazione ma Dio queste cose le fa non le fa soltanto con Maria di Magdala tutti hanno la possibilità non c'è nessuno che vada all'inferno senza aver avuto questa possibilità nel modo proprio per lui certamente la persona che è scintoista non so che caspita il Signore c'era dei modi particolari per parlargli nel cuore ma nessuno nessuna persona non è in qualche modo cercata chiamata voluta salvare da Dio ma questo non si fa senza di noi se la persona decide il diavolo se ne va all'infesa scorna sbraita grida si vendica per carità la smarrita che va abbastanza che una sport adesso lo vedremo e poi e dopo e dopo e dopo arrivederci tutte le torni all'inferno e io comincio il cammino verso il paradiso e arrivederci anzi no arrivederci vattene all'inferno e la rimani ecco chiaro non voglio più peccare capite la tua la tua Maria che non vuole più peccare e guardate quando uno non vuole cioè vuole ancora peccare ma sapete quanta gente che i peccati mortali insedevano fa e fanno sempre gli stessi peccati mortali e poi vanno a confessarsi ma che c'è vai a fare ma non è che voi diceva allora che faccio devi risolverti di smettere non si cioè non si può stare scusate in masturbazione compulsiva e andarsi che ti va che ti va che ti va che ti va in continuazione tanto li fa il giorno dopo non guarirai mai fino a quando qualcuno non ti dice adesso te fermi vuoi fare questa cosa tu la comunità non la fai a tempo indeterminato fino a quando non la pianti perché se vuoi la pianti perché l'hanno piantata in tanti non ce la fai da solo e chiedi aiuto al Signore fai una bella novena alla Madonna vi è rosario in mano per carità siamo deboli per carità ma se non ti decidi poi certamente se ti decidi vuoi essere pure che ci sarà un tempo come dire un tempo di convalescenza dove si può mettere in conto qualche caduta ma certo se tu parti dalla masturbazione compulsiva a una caduta che in un mese in un momento in un giorno cadi certo che ti puoi confessare dicono maestri di spirito un criterio per capire se un peccatore abituato combatte è la riduzione della frequenza del numero dei peccati del tempo ma se questo non c'è va a far sacrilegi su sacrilegi capito confessione sacrile che comunione sacrile confessione sacrile che comunione sacrile confessione sacrile che comunione sacrile in continuazione queste cose bisogna averle chiare bisogna averle vabbè andiamo alla casa di Simone farisea può essere che ce la facciamo vediamo un po' forse sì o forse no quello che Dio vuole allora vedo una ricchissima sala un ricco lampadario a molti vecchi pende nel centro ed è tutto acceso alle pareti tappeti bellissimi e sedili intarsiati e incrostati di avoro di naminature preziose e mobili pure molto belli nel centro una grande tavola quadrata ma composta di quattro tavole unite così e qui Maria Valtorta non era una grande disegnatrice quasi quasi compete con me che se mi mette una zappa una matita in mano non le so molto bene distinguere l'una dall'altra quindi a sto quadratino nero potrei anche girare l'ipad e mandarlo davanti alla fotocamera ma non essendo un'opera d'arte giottesca lo descrivo io su questi questi quattro tavoli che si vicina c'è un quadratino nero non vi dico poi l'altra che ma dopo dopo ci arriviamo la tavola è certo apparecchiata in tal modo per i molti convitati tutti uomini ed è ricoperta di bellissime tovaglie e di ricco vasellame vi sono anfore e coppie preziose molti sono i serviti che si muovono intorno ad essa portando vietanze e mescendo vini nel centro del quadrato non c'è nessuno vedo il pavimento molto bello su cui si riflette la luce del lampadario d'olio dal lato esterno invece ci sono molti retti sedili i triclini si chiamavano a quanto pare gli ebrei non lo so perché questa è una informazione che mi manca non so se anche gli ebrei avevano questa consuetudine di mangiare perché i romani mangiavano così o se l'avevano imparata dai romani non credo perché i romani non credo che gli ebrei presumibilmente anche loro avessero questa cosa perché anche nell'ultima cena maiole Valtorta vide i triclini quindi anche il gesto della lavanda dei piedi di Gesù si capisce un pochino meglio è sempre una grande imitazione ma erano seduti in modo tale che si stava sdraiati quindi il piede usciva leggermente fuori dalla sponda sedile appunto del letto sedile no? va beh quindi va beh mi pare di essere nell'angolo semibuio posto in fondo alla sala presso ad una porta che è spalancata dalla parte esterna ma che nello stesso tempo è chiusa da un pesante tappeto o arazzo che pende dal suo architerraneo e qui c'è il disegno dell'arazzo allora il disegno dell'arazzo è fatto così c'è uno sfondo quadrato bianco poi c'è una specie di come si chiama? orca un rettangolo con un rettangolo con le sbarre laterali inclinate e duzzeppi sopra che probabilmente saranno una specie di di parallelogramma si chiama cicchio parallelogramma reminiscenze della geometria ovidea il cervello va in transistore e duzzeppi sopra vi risparmio anche quest'altra cosa perché insomma vabbè galloni se più le piace chiamarli così o per chi non conoscesse Maria Valtorto tutte queste descrizioni le venivano chieste dal padre se più le piace si sta rivolgendo al padre spirituale che per confermare la veridicità della fonte le chiedeva descrizioni dettagliate delle vesti dei luoghi delle persone dei paesaggi che in effetti ci hanno fatto degli studi sopra costituiscono cioè quello non c'era mai andata in quei posti lì capite non poteva avere nessuna più pallida idea di com'era e ha descritto in maniera assolutamente verosimile tutte quante queste situazioni comunque chiusa parentesi di nuovo ma il volto di questo vecchiotto non mi piace è un volto maligno freddo superbo e avido foto finish ok nel lato opposto di fronte a lui sta il mio Gesù io lo vedo di fianco dire quasi di dietro alle spalle ha la sua solita veste bianca i sandali i capelli bipartiti sulla fronte e lunghi come sempre eh creato lui noto che tanto lui come tutti i commensali non siedono come io credevo si sedesse su quei letti sedili ossia perpendicolarmente alla tavola ma parallelamente ok quindi non erano messi erano messi in orizzontale presumibilmente allineati nella visione delle nozze di canna non avevo fatto molto caso a questo particolare avevo visto che mangiavano stando appoggiati sul gomito sinistro proprio come i romani ma mi pareva che fossero meno adagiati forse perché i letti erano meno lussosi e molto più corti questi sono dei veri letti pagliano i moderni divani alla turca Gesù avvicinò Giovanni ah quest'altro disegno questo lo faccio vedere mi sa e dato che Gesù sta appoggiato sul gomito sinistro come tutti risolta che la posizione di 2 è così questo lo devo far vedere perché se qualcuno mi dice poi al termine della diretta o lascia il commento su youtube che capisce che significa vediamo un po' no aspetta sono davanti eccolo qua se qualcuno capisce ecco da questo disegno come stavano seduti i due ecco poi me lo dice perché questi sono i disegnini di di Maria Valtorta poverina che sicuramente ha avuto qualche difficoltà analoga a quelle del sottoscritto che la penna era d'oro la matita un po' meno insomma Giovanni è incastrato fra la tavola e il corpo del signore giungendo col suo gomito verso l'inguine del maestro di modo che non gli ostacola di mangiare ma che gli permette anche se vuole di appoggiarsi confidenzialmente sul suo petto vedete San Giovanni sempre nella sua posa tipica no di donne non ce n'è nessuna tutti parlano il padrone di casa ogni tanto si rivolge con affettata con discendenza e con palese degnazione a Gesù cioè gli fa il favore di rivolgergli la parola capito il grande fariseo parla con questo plebeo profetastro ecco è chiaro che vuole dimostrargli e dimostrare a tutti i presenti che gli ha fatto un grande onore ad invitarlo nella sua ricca casa lui povero profeta giudicato anche un poco esaltato vedo che Gesù risponde con cortesia pagatamente vedete che io quando presento queste cose che Gesù non scende mai lì cioè è sempre un grande no è un grande è più grande di tutti ma queste cose sono proprio di classe cioè una persona di classe una persona signorile educata non scende mai a livello Gesù pensate che Gesù non avesse capito che quello stava come dire noi diciamo se la stava tirando un po' che stava lo stava snobbando un po' lo stava umiliando un po' diciamo mi da casa mia tu che ma Gesù tranquillo fa finta di non capire fa finta di non capire risponde con cortesia pagatamente sorride del suo lieve sorriso a chi lo interroga sorride con un sorriso luminoso se chi gli parla o anche solo lo guarda Giovanni e adesso arriva il bello ovviamente vedo alzarsi la ricca tenda che copre il panno della porta ed entrare una donna giovane bellissima riccamente vestita e accuratamente pettinata oh non fate caso dice ma come la conosce Maria di Magdala allora l'opera guardate che l'opera di Maria Valtorta non pensiate che Maria Valtorta ha avuto praticamente si alza la mattina e ha la visione cronologica dal primo all'ultimo episodio non è così sapete anche come si girano i film o meglio ancora le serie cioè non è che tu una serie o un film viene girata dalla prima all'ultima scena no capito tu prendi queste scene ci sono tutta quanto una serie di scene no magari sono 35 scene in in due ore di film mica mica necessariamente si parte dalla prima all'ultima capite cioè vengono girati a spezzoni e poi vengono montati ok tanto ma Maria Valtorta ha ricevuto l'opera in questo modo cioè non in maniera cronologica quindi delle volte non nomina il personaggio non perché non lo conosce ma perché ancora non lo conosce anche se questo è un fatto successivo alla prima volta che Maria di Magdala incontra Gesù quindi questo linguaggio fa capire che questo episodio l'è stato mostrato prima addirittura del primo incontro presumibilmente di Maria di Magdala con Gesù ok questo è un altro evidentemente poi criterio di studio per andare a indagare sulla veridicità o meno di quest'opera per chi avesse qualche perplessità ok ricca riccamente vestita accordamente vettinata la sobbondantissima chioma bionda le fa sulla testa un vero ornamento di ciò che è intrecciate con arte pare porti un elmo d'oro tutto a rilievi tanto la chioma splendida e abbondante ha una veste che se la confronto con quella sempre vista alla Vergine Maria direi che è molto eccentrica e complicata fibbie sulle spalle gioielli per trattenere l'increspatura al sommo del petto catenelle d'oro per delineare il petto stesso cintura a borchi d'oro e gemme una veste procace che mette in rilievo le linee del bellissimo corpo sulla testa un velo così leggero che puntini puntini non veda niente è un'aggiunta ai suoi vizi e basta ai piedi sandali molto ricchi con fibbie d'oro di pelle rossa e con lacci intrecciati sulla caviglia e adesso attenzione ecco queste cose che fa Gesù a me che mi mandano in estasi tutti meno Gesù si voltano a guardarla sempre unico è unico però Giovanni lo serve un attimo poi si voglia subito verso Gesù Giovanni come dire il number one dopo l'inimitabile no gli altri la fissano con apparente e maligna golosità ma la donna non li guarda per niente non si cura del sussurrio che si è destato al suo entrare dell'ammiccare di tutti i presenti meno Gesù e il discepolo Gesù mostra di non accorgersi di nulla ma l'ha fatta apposta continua a parlare terminando il discorso che aveva in tavola dopo di noi di casa guardate che nell'opera di Maria Valtorta queste cose per esempio nei Vangeli non ci stanno certo che non è essenziale perché nel Vangelo c'è tutto quanto l'essenziale queste opere sono guardate che gli esaltati stanno in giro dovunque perdonatemi se uso questo termine stanno presso Luisa Piccarrete stanno pure presso Maria Valtorta gente esaltata che dice che adesso sostituiamo il Vangelo con gli scritti di Maria Valtorta cose provocate dal demonio per quanto mi riguarda per andare a screditare completamente il buono che c'è in queste cose perché quando uno vede un matto del genere dice se sto presso a Maria Valtorta non esiste insomma no quindi purtroppo il diavolo è diavolo amici cari quindi vabbè ma una cosa bellissima per esempio andarsi a studiare i silenzi di Gesù per esempio un episodio fondamentale è quando Gesù sta davanti a Erode quello che succede davanti a Erode i Vangeli dicono sì che Erode gli ha fatto un po' di domande e poi gli ha messo la veste bianca da pazzo che cosa gli ha chiesto Erode gli ha chiesto di avere la torta ci sta e perché gli ha messo la veste da pazzo quale sarebbe stata la pazzia ci sta anche lì tanta roba perché per chi lo volesse sapere dato che l'ho citato forse mi ho imparato a riconoscere queste cose mi viene in mente forse è meglio che lo dico sapete che è successo nel colloquio con Erode durante il processo che Erode che cosa gli chiedeva gli chiedeva se ti può tu quello era Erode Antifa quello che aveva fatto ammazzare Giovanni Battista quello era un corrotto d'accordo se ti può ah se ti può aiuta che sento parlare di te tu è il figlio di Dio e fammi un po' un miracolo quello un po' che si vede nella passione di Mike Gibson la passione di Mike Gibson diciamo che la prima parte è quella se non mi fai non farei un miracolo per il tuo re solo che non c'è la seconda che Erode evidentemente Gesù non gli rivolge nemmeno la parola nemmeno la guarda dice vabbè mi pare che forse hai preso troppe botte stai da tutto un po' male oggi stai un po' in crisi non riesci a comportarti da Dio allora facciamo così fa l'uomo e fa venire un altro po' di mimme tipo Salome a fargli bei balletti in vesti praticamente nude intorno a lui e lì non ricordo come se avessi letto ieri Gesù in piedi chiude gli occhi chiude gli occhi perché dinanzi alle scene turpi che tu le parla anche voi gli occhi si chiudono e si mette a braccia concerte lasciando e quelle chiaramente si avvicinano lo quasi sfiorano lui non batte cilla e allora che fa Erode e tu saresti t'ho trattato da Dio e non ti sei comportato da Dio t'ho trattato da uomo e non ti sei comportato da uomo allora lo sai che ti dico che tu sei matto rivestitelo di questa veste bianca e mandate sto matto a Ponzio così è andata secondo gli scritti di Maria Valtorta tu dici cosa cambia? sostanzialmente niente è però accidentalmente cambia tanto figli miei è che caspita perché se uno ci riflette un po' su queste cose qui è c'ha la faccia la meditazione su questa roba qua quindi i silenzi i comportamenti gli atteggiamenti di Gesù sono più eloquenti di molte parole qui Gesù l'ha fatta apposta numero uno siccome questa era andata lì vestita così adesso lo vedremo per dismettere queste vestite l'ha fatta apposta l'ha fatto però Gesù non l'ha proprio guardata e ha fatto finta di non accorgersi perché non voleva metterla in difficoltà quindi uno sguardo allora Gesù la donna continua a parlare terminando il discorso che aveva intavolato col padrone di casa la donna va verso Gesù e si inginocchia presso i piedi del maestro appogge in terra un vasetto a forma di anfora molto panciuta si leva il velo dal capo spuntando lo spillone prezioso che lo tratteneva puntato ai capelli si sfira dalle dita agli anelli e posa tutto sul letto sedile presso i piedi di Gesù e poi prende quindi cominciamo a fare un po' di di repulisti e poi prende fra le sue mani i piedi prima il destro e poi il sinistro ne slaccia i sandali li depone al suolo e poi bacia con un gran scoppio di pianto coi piedi vi appoggia contro la fronte se li carezza e le lacrime scendono come una pioggia che luccica alla fiamma del lampadario che riga la pelle di quei piedi adorabili Gesù volge lentamente il capo appena appena e il suo sguardo azzurro cupo si posa un istante sulla testa reclina non l'aveva manco guardata qui ancora uno sguardo che assolve poi torna a guardare verso il centro la lascia libera nel suo sfogo anche qua guardate la delicatezza il modus ma gli altri no motteggiano fra loro ammiccano chignano e il fariseo si mette un momento seduto per vedere meglio e ha uno sguardo fra il desideroso il cruciato e l'ironico desideroso della donna è palese questo sentimento cruciato che si è entrata tanto liberamente cosa che potrebbe far pensare agli altri che la donna è puntini puntini ospite frequente della sua casa ma guarda un po' ironico riguardo a Gesù ma la donna non si accorge di niente continua a piangere dirottamente senza gridi solo lacrimoni e rari si ingolti poi si spunta i capelli traendono le forcine d'oro aglia oro eh mani piedi capelli tutto trappertutto poi si spunta i capelli traendono le forcine d'oro che sostenevano la complicata pettinatura e pone anche queste forcine vicino agli anelli allo spillone le matasse d'oro si srotolano per le spalle ella le prende a due mani se le porta sul petto e le passa sui piedi bagnati di Gesù finché li vede asciutti poi immerge le dita nel vasetto e ne trae una pomata levemente giallina e odorosissima un profumo fra digiglio e tuberosa si spande per tutta la casa la donna attinge senza avarizia estende spalma e bacia e carezza Gesù di tanto in tanto la guarda con tanta amorosa pietà Giovanni che si è voltato stupito allo scoppio di pianto non sa di staccare l'occhio dal gruppo di Gesù e della donna guarda l'uno e l'altro e l'altra alternativamente il volto del fariseo è sempre più arcigno odo qui le parole del Vangelo e le odo accompagnate da un tono e da uno sguardo che fanno abbassare il capo al vecchio astioso odo le parole di assoluzione alla donna che se ne va lasciando i peri di Gesù suoi gioielli e la si è arrotolata il vero intorno al capo serrando in esso alla bene meglio le chiamate fatte Gesù nel dirle va in pace le pone la mano sulla testa china per un attimo ma con un atto dolcissimo e qui audite audite come sovente accade io non dirò neanche mezza parola speriamo di mantenere la promessa perché qui il commento lo fa Gesù in persona e mo ce lo sentiamo Gesù ora mi dice quello che ha fatto chinare il capo al fariseo e ai suoi compagni e che non è riportato nel Vangelo sono le parole che il mio spirito attraverso il mio sguardo ha dardeggiato e confitto in quell'anima arida e avida vedete lo sguardo ho risposto molto più di quanto non si è detto perché nulla mi ero colto dei pensieri degli uomini cioè prima di dire Simono da dirti una cosa cioè Gesù l'ha guardato ma non era era uno sguardo di quelli di quelli adesso non saprei cioè che gli ha fatto capire ma ma che stai a pensare ma che ti pensi che non lo so ma che ti dici sentite no ed egli mi ha capito nel mio muto linguaggio che era ancora più denso di rimprovero di quanto non fossero le mie parole vedete gli ho detto no no non fare insinuazioni malvagie per giustificare te stesso a te stesso io non ho la tua libidine capite i pensieri che stava facendo no dice insomma una donna che ti si mette ai piedi te li bacia te li tocca te li lava insomma no che vuole questa e che vuole lui io non ho la tua libidine costa che non viene a me per attrazione di senso io non sono come te e come sono i tuoi simili no e la viene a me perché il mio sguardo e la mia parola udita per puro caso le hanno illuminato l'anima in cui la lussura aveva creato la tenebra e viene perché vuole vincere il senso e comprende povera creatura che da sola non vi riuscirebbe mai essa aveva in me lo spirito nulla più che lo spirito che sente soprannaturalmente buono dopo tanto male che ha ricevuto da voi tutti che avete sfruttato la sua debolezza per i vostri vizi ricambiandola poi con le staffirate dello sprezzo e la viene a me perché sente di aver trovato il bene la gioia la pace inutilmente cercate fra le pompe del mondo guarisci da questa tua lebbra di anima fariseo ipocrita e sappi vedere giusto nelle cose deponi superbia di mente e lussuria di carne sembra stupendo proprio queste sono lebre ben più fetide di quelle della vostra persona di quest'ultima il mio tocco vi può guarire perché per essa mi invocate per la lebbra reale ma della lebbra dello spirito no perché voi di questa non volete guarire attenzione non volete guarire perché vi piace costello vuole ed ecco che io la mondo ed ecco che io la franco dalle catene della sua schiavitù la peccatrice è morta essa è là in quegli ornamenti che ella si vergogna di offrirmi perché io li santifichi usandoli per i bisogni miei dei miei discepoli per i poveri io soccorro con l'altui superfluo perché io padrone dell'universo non possiedo nulla ora che sono il salvatore dell'uomo e sella in quel profumo sparso sui miei piedi avvilito come i suoi capelli su quella parte del corpo che tu hai spregiato di rinfrescare con l'acqua del tuo pozzo dopo che ho fatto tanto cammino per venire a portare luce anche a te la peccatrice è morta ed è rinata Maria rifatta bella come fanciulla pudica dal suo vivo dolore dal suo netto amore dal suo retto amore si è lavata nel suo pianto in verità ti dico farisei che fra costui che mi ama nella sua giovinezza pura e questa che mi ama nella sincera contrizione di un cuore rinnato alla grazia io non faccio differenza e al puro e alla pentita commetto l'incarico di comprendere il mio pensiero come nessuno e quello di dare al mio corpo le estreme onoranze ed il primo saluto non conto quello di mia madre quando io sarò risorto chiaro? ecco quanto volevo dire col mio sguardo al fariseo ma a te faccio notare un'altra cosa a tua gioia e a gioia di molti e qui guardate chiudiamo abbiamo 5 minuti anche a Betania Maria ripete il gesto che segnò l'alba della sua retenzione vedete Maria di Magdala la peccatrice del secondo fariseo e Maria di Betania la fa Gesù stesso l'identificazione vi sono gesti personali ecco qua che si ripetono e denunciano una persona come lo stile della stessa che è bello gesti inconfondibili ma poiché era giusto a Betania il gesto è meno avvilito e più confidenziale nella sua riferente adorazione Betania è 4 giorni prima della passione molto ha camminato Maria da quell'alba di sua retenzione molto l'amore l'ha trascinata come il rapido vento in alto in avanti l'amore la arza come un rogo distruggendo in lei la carne impura e facendo signore in lei uno spirito purificato e Maria diversa nella sua risorta dignità di donna come diversa nella veste perché le vesti non sono senza significato ora semplice come quella della madre mia vedete la spia della conversione di una donna guardate mi possono dire che sono fissato quanto gli pare io su questa cosa qui e quando vedo anche certe presunte veggenti ci sono stati dei casi abbastanza famosi che sono rivelati a me c'è bisogno come una di altre cose io ho visto un video dove la presunta veggente stava conciata io non ci credo manco se lo vedo che gli appare la madonna però se gli appare per carità manco se lo vedo compri molto prima che che fossero poi palesi certi incongruenze che poi sono diventate pubbliche no diversa nella sua risorta dignità di donna come diversa nella veste ora semplice come quella della madre mia nell'acconciatura nello sguardo nel contegno nella parola acconciatura sguardo contegno parola nuova ha un nuovo modo di onorarmi con lo stesso gesto che è il suo prende l'ultimo dei suoi vasi di profumo serbato per me e me lo sparge sui piedi senza pianto con sguardo che l'amore e la sicurezza ad essere perdonata e salvata fa lieto e sul capo può ben ungermi e toccarmi il capo ora Maria il pentimento e l'amore l'hanno mondata col fuoco dei serafini ed è lei un serafino capite cosa sta dicendo a casa di Simone il fariseo non poteva ungerlo sul capo al Signore sui piedi sì ma sul capo no per poterlo ungerlo sul capo anche sul capo era necessario aver fatto già un bel cammino di conversione e essersi già fatti consumare dall'amore e dal fuoco e dal pentimento e nonostante questo da risorto Gesù non si è fatto toccare lo vedremo da Maria di Maglia nonostante questo perché ancora il grado di purificazione non era sufficiente dillo a te stesso a Maria mia piccola voce dillo alle anime va a dire alle anime che non osano venire a me perché si sentono colpevoli molto 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 è perdonato a chi molto ama a chi molto mi ama mi ama voi non sapete povere anime come vi ama il Salvatore non temete di me venite con fiducia con coraggio io vi apro il cuore e le braccia ricordatevelo sempre io non faccio differenza tra colui che mi ama con la sua purezza integra e colui che mi ama nella sincera contrizione di un cuore rinato alla grazia sono il Salvatore ricordatevelo sempre va in pace ti benedico come promesso non serve per commentare le parole del nostro Dio Maestro il grande assoluto e quindi con questi ci salutiamo e ci diamo appuntamento alla prossima puntata che Dio in benedica e la Santa Vecchia sempre vi protegga che Dio in benedica